Non bastano le smentite e le rassicurazioni dell'assessore regionale Pietro Di Paolo e del vice sindaco Enrico Zappacosta sulla mega discarica. O almeno non bastano a Futuro e Libertà e all'Italia dei Valori, che oggi tornano sulla vicenda, chiedendosi il motivo per cui la diretta interessata, ovvero il presidente Renata Polverini, non sia ancora intervenuta. Iniziamo da chi ha lanciato l'allarme, da chi ha riferito la notizia della firma da parte della governatrice del decreto per il via libera alla mega discarica. Il direttivo di Futuro e Libertà sostiene che sarebbe felice di essersi sbagliato, di aver ricevuto informazioni errate, che la giunta regionale non ha intenzione di spostare la discarica di Roma alla farnesiana. La cosa che però stona in tutta questa vicenda, si legge ancora nella nota diramata dall'FLI, è che a parlare è il vice sindaco della città, che evidentemente è il portavoce della governatrice Civitavecchia, mentre da Roma tutto tace. In realtà da Roma qualcuno ha parlato, è stato Pietro De Paolo, assessore alle politiche dei rifiuti della regione Lazio, che ha liquidato la vicenda parlando di notizia priva di fondamento. Un commento che però non basta rassicurare l'Italia dei valori, che si chiede come mai la presidente Renata Polverini non abbia smentito di persona. Sarebbe stato un atto apprezzabile e significativo, secondo l'epartito, considerando la situazione che vive nel territorio di Civitavecchia, tra centrali, porto e discariche varie, senza dimenticare poi il recente impegno sulle fronte dell'accoglienza agli immigrati. Una situazione che fa sorgere un dubbio all'IDV se Civitavecchia stia veramente a cuore alla presidente Polverini, lo slogan sbandierato in campagna elettorale. Sarebbe stato opportuno da parte della presidente, conclude l'Italia dei valori, un impegno concreto per escludere in modo definitivo il nostro territorio dallo smaltimento di rifiuti romani e non ulteriori, che decrederebbero la morte definitiva dell'intero comprensorio e dei suoi abitanti. Ed evitarci un altro probabile? Non lo sapevo. Grazie a tutti.